Il mio unico commento è per me stasera e mi dico, Cercino ma fa tanto lunga, diretti e così. Sì, certo che un'esibizione così come un corpo di barri, di barriini professionisti, i costumi, trucco, bellissimo, aiuta Michele che fa molto bene il suo lavoro, stavo pensando che questi ballerini professionisti oggi probabilmente da bambini hanno visto il vero video di Michael Jackson e hanno deciso di fare i ballerini, quindi questo torna da le caratteristiche una canzone della proiezione, ho dato anche dieci. Grazie